Inaugurazione del centro comunale di raccolta dei rifiuti di Picanello a Catania. Inizia così la rivoluzione impressa dalla nuova amministrazione comunale etnea al tema dell'igiene ambientale. I cittadini otterranno un indennizzo pari a 0,05 di euro per ogni chilogrammo di rifiuti conferiti al centro. All'inaugurazione vi hanno preso parte tra gli altri il sindaco Enzo Bianco e gli assessori all'ecosistema urbano Saro D'Agata, all'urbanistica e al decorurbano Salvo di Salvo. Catania volta pagina nella raccolta dei rifiuti e punta sulla differenziata. Punta sulla differenziata vuol dire che noi daremo un premio, un'incentivazione ai cittadini che collaboreranno. Ogni chilo di raccolta differenziata conferita prevederà uno sconto consistente nel pagamento della tassa sui rifiuti. 5 centesimi, sino al massimo di 60 euro, si tratta naturalmente per una famiglia media di un buon risparmio. L'obiettivo è quello di aumentare la quota della raccolta differenziata dei rifiuti. Facciamo questo con l'obiettivo in due anni di portare Catania finalmente a essere una città nella media nazionale della raccolta differenziata e potrà diventare nel giro di quattro anni una città leader nel campo della raccolta differenziata, sull'esempio di Salerno. Il mio obiettivo è riuscire a raggiungere nel giro di qualche anno la virtuosità di Salerno in questo ambito.